È finita la pausa estiva, riprende la scuola e riprende anche un matematico prestato alla Disney. Ci eravamo lasciati prima dell'estate con l'episodio 18, quindi riprendiamo con l'episodio 19, Artimedia a casa in 4D, l'ipercubo. Quindi oggi il tema matematico è l'ipercubo. Quando ho accennato ai miei amici ventenni paperoni che avrei voluto parlare di ipercubo, tutti mi hanno citato ovviamente Universi Paperalleli, storia del 2007 che è una sorta di parodia in un certo senso o se vogliamo un rimando deciso al film l'ipercubo, il cubo 2 del 2002. Qua vedete appunto i disegni della stanza in cui si ritrovano i paperi imprigionati che ricorda benissimo le stanze del film dell'ipercubo. Ma in realtà io voglio utilizzare una storia molto più dannata che in cui l'ipercubo non è neppure citato in realtà. La storia è Archimede e la casa in 4D di Giorgio Figus con i disegni di Paolo Campinoti. Archimede è apparsa tutto Polino 2247 nel 1998. Qua vediamo Archimede che spiega ai suoi committenti che la casa che aveva costruito si è ripiegata su se stessa. All'esterno è una casa a tre dimensioni ma all'interno è una casa a quattro dimensioni. Vediamo di capire un po' di più su cosa intende Archimede e su cos'è l'ipercubo. Iniziamo a capire che cos'è l'ipercubo. Beh, in dimensione 1 possiamo prendere un segmento che è una linea che collega due punti. Immaginiamo ora di spostare questo segmento in una direzione perpendicolare al segmento stesso per una lunghezza pari a quella del segmento. Quello che succede è che appare un quadrato. Il segmento AB spostandosi perpendicolarmente alla sua direzione descrive un rettangolo che poi, quando lo spostamento è pari alla lunghezza del segmento, diventa un quadrato. Possiamo ora spostare perpendicolarmente alla direzione del quadrato il quadrato in una terza direzione, facendolo venire verso di noi. In questo modo, una volta che lo spostamento sarà uguale a quello di uno dei lati del quadrato, avremo generato un cubo. E poi? Beh, e poi un'altra direzione non c'è, ma possiamo immaginare di spostare questo cubo in una direzione perpendicolare alle tre già disegnate, muovendoci così in una quarta dimensione, e spostarlo di una lunghezza pari alla lunghezza dei lati del cubo. e generiamo così l'ipercubo in dimensione quattro. Qua la quarta dimensione è rappresentata semplicemente da una quarta direzione che immaginiamo ortogonale alle altre, come anche la dimensione tre è rappresentata esattamente allo stesso modo. Infatti, possiamo ricordarci che abbiamo già parlato di questo metodo di rappresentare la quarta dimensione in un matematico prestato alla Disney, undici. Quando, per rappresentare graficamente la quarta dimensione, abbiamo visto come Paolo Mottura ha usato delle linee che andavano, rette che andavano in quattro direzioni diverse, a rappresentare appunto le quattro direzioni. Ma avevamo anche detto che avremmo trattato in futuro un altro metodo di rappresentare la quarta dimensione, ed è esattamente quello che facciamo in questa puntata. Qua vediamo appunto il progetto della casa di Archimede, che è costituita da vari cubi sovrapposti. Vediamo un famoso dipinto di Salvador Dalì, Corpus Hipercubus, che assomiglia molto alla casa di Archimede, e poi stilizzato i otto cubi che formano questa figura, che è la stessa del Corpus Hipercubus di Dalì, e che esso rappresentano lo sviluppo dell'ipercubo in tre dimensioni. Sviluppo in che senso? Nello stesso senso in cui, se noi prendiamo un cubo in tre dimensioni, di cartoncino in modo tale che sia ripiegato, lo possiamo aprire e sviluppare in modo da rappresentare questa croce, questo tipo di croce. Bene, se prendiamo un ipercubo e cerchiamo di aprirlo nelle tre dimensioni, succede una cosa molto simile, e semplicemente quello che vediamo è una croce con quattro cubetti sovrapposti, e anziché solo una banda laterale, anche una banda dall'altro lato fatta da due cubi, due cubi in una negazione, due cubi nell'altra. Questi otto sono esattamente uno sviluppo dell'ipercubo. E quindi questo è un altro modo. Possiamo immaginare di ripiegare su se stesso la croce che rappresenta lo sviluppo del cubo per costruire il cubo, e così, avendo a disposizione la quarta dimensione, potremmo ripiegare su se stessa questo sviluppo dell'ipercubo per costruire l'ipercubo nella quarta dimensione. Si farebbe esattamente allo stesso modo, anche se è un po' difficile da immaginare, visto che noi le quattro dimensioni non le vediamo. Mentre quello delle due dimensioni, chiunque da piccolo ha visto delle figure da ritagliare, in cui bisognava costruire, ad esempio, un dado partendo da un foglio di carta che andava piegato, incollato in un certo modo. Semplicemente era uno sviluppo del cubo. Bisogna fare esattamente la stessa cosa. E quindi che cosa è successo? È successo esattamente questa cosa nella storia. Qua a sinistra vedete la casa che ha costruito Archimede, che è costruita da vari cubi, e poi a un certo punto c'è un terremoto e la casa, instabile, si ripiega su se stessa. Si ripiega su se stessa andando a rendere visibile soltanto un cubo. Esattamente come se noi avessimo lo sviluppo del cubo sul piano e poi noi lo pieghiamo nella terza dimensione e nel piano resta visibile soltanto uno dei quadrati e non più tutto lo sviluppo. Qua è successa la stessa cosa. Gli altri cubi sono finiti nella quarta dimensione. Non si vedono più. All'interno della casa si trovano un sacco di cose strane e porte che danno sui mondi stranissimi appunto nella quarta dimensione. C'è da dire che nella storia non viene mai citato l'ipercubo, quindi non è un vero errore, ma in un certo senso il disegno della casa di Archimede richiama tantissimo un ipercubo, lo sviluppo dell'ipercubo, ma presenta ai noi un cubo in meno. Come vedete nel corpus ipercubus di Dalì e nello sviluppo dell'ipercubo sotto la croce sono presenti due cubi, mentre sopra soltanto uno e invece nel progetto di Archimede, nella casa di Archimede, sono presenti soltanto un cubo sia sotto sia sopra la croce. Quindi non è esattamente lo sviluppo dell'ipercubo, ma sicuramente questa era un'occasione troppo ghiotta per parlare degli sviluppi dei iperpoliedri regolari, che è sicuramente uno dei tanti modi di cercare di visualizzare un iperpoliedro regolare che è molto molto complicato. Tra l'altro gli iperpoliedri regolari in dimensione 4 sono molto molto interessanti, perché mentre i poligoni regolari sono infiniti, i poliedri regolari sono 5, gli iperpoliedri regolari in dimensione 4 sono 6 e poi dalla dimensione 5 in poi ce ne sono soltanto 3, gli equivalenti di tetraedro, cubo e ottaedro. Mentre in dimensione 4 è la dimensione, a parte la dimensione 2 in cui la cosa è banale, che presenta più iperpoliedri regolari. Per questa puntata è tutto, un matematico prestato alla Disney ritorna con la sua solita regolarità domenica prossima.